È una compagnia qua della zona di Sant'Edoardo, siamo nati nel 2002 e eravamo un gruppo tutti di amici che abbiamo deciso di metterci e insomma fare teatro. Siamo partiti con un primo spettacolo molto grosso, molto complicato che era Depretore Vincenzo. Nel corso degli anni abbiamo fatto, ci siamo tra virgolette specializzati nella commedia però non ci piace dire che siamo specializzati in qualcosa, ci piace pensare che potremmo fare tutto volendo. Però continuiamo a fare commedia perché alla fine è quello che più piace al pubblico insomma. E niente, l'idea di questo spettacolo è partita da una lettura di un copione sostanzialmente come un po' tutti gli spettacoli partono. E l'abbia letto, ci è piaciuto, ci siamo ritrovati insomma perché è la storia di un disastro che succede all'interno di una compagnia teatrale. Il mio personaggio nella commedia è quello di una impiegata dell'ufficio delle imposte che arriva in questo casolare di campagna, un mulino ristrutturato con un uomo per appartarsi con lui e in realtà ne succedono di tutti i colori. Questo è il personaggio della commedia. Inoltre faccio anche, interpreto anche me stessa in pratica con il mio nome che sono la svampita in assoluto di tutta la compagnia, quella che non capisce mai niente, che pensa sempre ad altro, che chiede sempre spiegazioni di tutto perché non ha mai capito niente, non capisce neanche il testo della commedia stessa. Mi piace venire qui perché siamo tutti amici, perché come definisco sempre io, abbiamo un'amicizia incalcolabile, penso che siamo veramente affiettatissimi e poi perché imparo un sacco di cose da chi questa cosa lo fa di mestiere. E tutti gli spettacoli un pochino io penso che questa cosa si senta, cioè noi andiamo in scena e ci divertiamo e la gente ci dice sempre voi vi siete divertiti tantissimo e ci siamo divertiti anche noi. Lo spettacolo si divide in tre atti. Il primo atto sono le prove generali, il secondo atto è il dietro le quinte, ovvero quello che succede dietro le quinte durante uno spettacolo. e il secondo atto è un po' particolare perché noi abbiamo girato un vero e proprio film del secondo atto e tutto succede in contemporanea, sia in scena che proiettato su un telone cinematografico. E il terzo atto poi è lo spettacolo in sé con tutti i problemi che ne conseguono, insomma. Siamo riusciti a tirare fuori le cose che ci vengono meglio, cioè le cose assurde, come dicevo prima, piuttosto che le situazioni paradossali, la nostra capacità di adattare la nostra mimica facciale a una situazione surreale. Veniamo da una serata bellissima in cui il pubblico si è divertito tanto, in cui ne hanno parlato per tanto anche oggi, quindi speriamo che anche per i prossimi giorni ci sia un'eco, anche perché appunto venerdì 29 abbiamo l'ultima messa in scena, quantomeno qui a Sant'Edoardo. qualcuno ci ha promesso che ci organizzerà delle date verso Milano, noi insomma su questa cosa ci contiamo, perché appunto vorremmo anche un pochino allargare i nostri orizzonti.